Da domani per me sarà Milan, ma oggi c'è ancora il tempo e lo spazio per allargare un attimo ad altri problemati e posso mettere il mercato, ma io trovo il concetto di sapere dove giocherà la Fiorentina per due anni lontano dal Franchi, lo trovo primario. Allora, premesso che per me è, ti ricordi, ci fu una frase dell'allora Presidente della Federcalcio Matarrese usò una parola assurda che era impossibilissimo, premesso che trovo impossibilissimo che la Fiorentina sia due anni davanti a Firenze, lontano da Firenze trovo anche che siamo in una situazione di stallo pericolosa. Allora, tra il comune che va avanti per la sua strada e la Fiorentina che ribadisce che lei vuole stare a Franchi, non c'è un punto d'incontro, allora serve un mediatore, serve un Kissinger, un Kissinger dello stadio che cerchi di avvicinare le due parti, che li chiudano in una stanza velocemente e che prima di Natale stabilisca cosa si può fare per adeguare il Padovani, quale può essere il compromesso tra il comune che oltre a quello che farà non può fare e la Fiorentina in sostiene di non volerci mettere una lira. Da queste posizioni bisogna uscire e serve uno che fa ragionare tutti.